709 carati E' un motivo per cui Dio ha dato questi diamanti alle persone più povere del pianeta, dice. E' quello di rendere il mondo un posto migliore. Il presidente della Sierra Leone, Ernest Baico Roma, ha messo all'asta la pietra con la promessa di costruire case e scuole con i proventi della vendita. Una prima offerta di quasi 8 milioni di dollari è già stata rifiutata. Il 4 dicembre ci sarà l'ultimo rialzo. Il Diamante della Pace arriverà a New York, dove il migliore offerente darà compimento ad uno dei più grandi gesti di solidarietà che il mondo abbia mai visto. Grazie. Grazie.